Buonasera a tutti, benvenuti al Castello d'Averne di Zavattarello, il Salone delle Feste, per questo concerto che chiude un po' le manifestazioni estive del nostro Comune, grazie a tutti per la partecipazione davvero numerosa di questa sera, vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori insieme all'amministrazione comunale dell'evento di questa sera che rientra nella manifestazione regionale Fai Impieno di Cultura, vorrei ringraziare quindi l'amministrazione che ha collaborato con noi, la direttrice del Museo di Arte Contemporanea, la dottoressa Sara Rossi, che ha avuto l'idea di questa serata e noi l'abbiamo accolta favorevolmente e che ha curato quindi la maggior parte degli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del concerto, della visita che ci sarà successivamente alla collezione del museo e poi anche il momento di convivio finale. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui così numerosi al Castello di Zavattarello, vi do il mio benvenuto qui a Note al Museo, un evento organizzato dal Museo d'Arte Contemporanea Giuseppe Titina Dal Verme del Castello di Zavattarello, soprattutto per celebrare la grande crescita che questo museo ha visto nell'ultimo periodo e che certo non si fermerà qui. Grazie a tutti. So che se di tutti i miei sogni il dolce accettassi tu, anche se di sogni tutta illusione non so più.. Sto avanti in un solo E'ognizazione per altri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.